Il Tar della Regione Campania ha colto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca per quanto concerne il rientro a scuola per i studenti delle superiori. Un ritorno in classe ma con modalità integrata e questa la decisione presa dal Tar. Dopo il via libera per il ritorno delle classi elementari e della secondaria superiore di primo grado a partire dal 25 gennaio ora tocca almeno al 50% anche ai ragazzi dei licei entro e non oltre il primo febbraio. Nel provvedimento si legge La Regione Campania dovrà conformarsi a quanto prescritto nel citato DPCM per le scuole secondarie superiori, preve ricognizione degli atti necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi minimi e massimi prescritti. Infatti, secondo il DPCM firmato dal Governo Conte, nel giorno della deadline fissata per l'1 febbraio, dovranno rientrare in presenza tra il 50 e il 75% degli studenti e non si potrà scendere sotto questa soglia, a meno di sussistenti problematiche che evidenzino l'impossibilità di riaprire gli istituti scolastici. Importanti parole anche da parte del Codacons, che ha sottolineato la centralità del diritto allo studio e alla frequenza scolastica.